Il nuovo amministratore unico della SACAL è Marco Franchini. La sua nomina è stata annunciata dal governatore della Calabria Roberto Chiuto. L'Assemblea della Società di Gestione degli Aeroporti Calabresi di Crotone, la Mezzia Terme e Reggio Calabria ha ratificato l'indicazione di Fincalabra che, come sapete, detiene la maggioranza delle azioni. Un manager di esperienza e di grande qualità, scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l'aeroporto di Catania, il quarto scalo d'Italia e per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese. La SACAL, ha detto Chiuto, ha bisogno di gente dinamica e propositiva. Gli aeroporti di Crotone, di la Mezzia Terme e di Reggio Calabria rappresentano una grande opportunità per la regione. La Calabria vuole crescere, vuole attrarre turisti e investimenti e quindi deve ammodernare e migliorare i suoi scali e aumentare notevolmente le rotte nazionali e internazionali. Eccolo il nuovo manager insieme a Occhiuto in un primo girovisita dell'aeroporto di la Mezzia Terme, lo scalo internazionale calabrese che anche l'anno scorso ha raggiunto lusinghieri risultati. A Franchini il compito di trovare l'assetto definitivo per la società unica degli aeroporti calabresi.